Amici di Unibat Italia, arriva questo derby di Coppa Italia, semifinale d'andata, atmosfera non è tra le migliori, lo stadio non sarà pienissimo ma arriva una Roma lanciatissima, gasata per questa vittoria così importante di Milano grazie a un Nainggolan in forma straordinaria, formato Blade Runner. Nainggolan che ovviamente guiderà la Roma all'assalto anche in questa partita, chiaramente da gestire perché nell'ottica dei 180 minuti qui il discorso è diverso, quattro partite, derby, Napoli, ci sarà ovviamente la gara con il Lione, quindi sono tutte ravvicinate, sono tutte importanti per stabilire se la Roma davvero potrà andare avanti a lungo sui tre fronti. Fino a questo momento lo stato di forma degli uomini di Mister Spalletti è davvero eccezionale, quindi si comincia a sognare una Roma molto competitiva fino a maggio e forse anche oltre, visto che la finale di Coppa Italia è prevista per i primi giorni del mese di giugno, quindi proprio l'epilogo della stagione. Pronosticare il debito, sapete, è una cattiveria per i tifosi della Roma, al tifoso della Roma non si può chiedere molto da questo punto di vista, però diciamo un X, rimaniamo così. Posizione interlocutoria, almeno per questa andata, un pareggio diciamo 1-1 e vediamo se alla fine questo può essere un risultato alla lunga, aspettando il ritorno già favorevole e propizio. Poi si preparerà il match point per il secondo posto con il Napoli sabato alle ore 15 allo Stadio Olimpico, ma noi ci risentiremo prestissimo anche per commentare e prevedere il risultato di quell'impegno. Un saluto a voi tutti da Dario Persani, buon tempo, ciao!